Dopo tanti anni tornare a Trento e fare il capitano non era una cosa scontatta quindi io sono molto contento di avere questa opportunità e al di là di questo voglio ringraziare per la scelta e dire che farò il mio meglio per questo gruppo giovane per dare tanta carica per arrivare fino in fondo a questa stagione e vincere qualcosa.